Purtroppo stiamo vivendo l'Italia al contrario, Renzi è un pericoloso incapace che sta ipotecando il futuro dei nostri figli per raccattare due voti domani mattina quindi prima lo mandiamo a casa, meglio è, il mio problema non è Marino, Marino è figlio di Renzi il mio problema è mandare a casa Renzi